70 anni in due, questo è il titolo dell'evento in cui verranno celebrate insieme due ricorrenze, la ricostruzione dell'Ordine dei Medici e la nascita della Repubblica, la location scelta e il teatro Regina Margherita. Il prossimo mercoledì 14 settembre alle ore 18 interverranno, oltre al presidente provinciale dell'Ordine dei Medici, Giovanni Di Polito, anche il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta e il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, Salvatore Amato. Sarà anche un'occasione per presentare il libro A Brucia Metterra, un volume che parla della Sicilia attraverso le fotografie del chirurgo Giovanni Di Lorenzo e le didascalie curate dall'autore teatrale Michele Albano. Mercoledì 14 settembre noi celebreremo i 70 anni della nascita della nostra Repubblica e i 70 anni della ricostituzione dell'Ordine dei Medici che in effetti nasce nel 1910 ma che viene sospeso durante il ventennio fascista, per cui si ricostituisce nel 1946. Ecco che quindi abbiamo questa manifestazione dal titolo 70 anni in due perché lo celebriamo noi come Ordine dei Medici e noi come cittadini della Repubblica. È aperta la cittadinanza proprio per spiegare quello che è il ruolo dell'Ordine dei Medici che poi alla fine è il ruolo di salvaguardia della salute di tutti i cittadini perché i colleghi, tutti noi che svolgiamo l'attività di medico passiamo al controllo dell'Ordine stesso.